la politica ha un debole per i privilegi e questa volta i privilegi sono intesi come i voli blu abbiamo avuto poco tempo fa un premio ministro dall'ego smisurato come matteo renzi che per essere al pari di altri capi di governo si è dotato di un grande airbus preso a in leasing da etihad per la cifra che all'inizio il contratto era un leasing da oltre 160 milioni per fortuna interrotti a metà del contratto con una perdita solo di 50 milioni di euro per i contribuenti italiani per poter avere le trasvolate in tutto il mondo senza dover far scalo e avere un aereo che avesse all'interno l'ufficio la camera da letto con bagno e quant'altro vi dicendo una grande europea fatta in un aereo che adesso sta arrugginendo nello scalo di fiumicino adesso abbiamo la seconda carica dello stato interpretata da maria elisabetta alberti casellati la prima femmina a presiedere il senato della repubblica italiana che è scivolata sui voli di stato nella trasferta in particolare tra venezia e roma nelle sue diciamo perignazioni della casa dove abita la padova e il senato dove lavora come presidente della situazione oltre a circa sei voli pare per recarsi in sardegna in vacanza durante il 2020 ebbene questi voli su cui adesso sta montando ovviamente la polemica del caso e anche un esposto del codacons alla corte dei conti per valutare se c'è stato meno spreco di denaro pubblico sono costati oltre un milione di euro perché dei 75 voli 124 voli di stato che è stati fatti da maggio 2020 fino ai giorni scorsi la casellati praticamente le ha usati quasi tutti al 75 per cento per coprire la trasferta casa lavoro casa e un paio e un qualche giorno di vacanza in sardegna il falcon in servizio al trentunesimo stormo dell'aeronautica di stato è a servizio della presidenza del senato e a differenza di quello che accade per i ministri del governo in carica pare che la presidenza del senato possa utilizzarlo a delibitum senza avere nessuna neanche alcuna richiesta di autorizzazione preventiva c'è da dire che facendo così la seconda carica dello stato ha dato l'ennesimo cattivo esempio un tempo dietro c'era lo scandalo delle auto blu quindi un paese in cui il parco delle auto blu era uno delle più grandi a livello europeo poi progressivamente sforbiciato ridotto dicendo però non ancora abbastanza perché se andiamo a guardare quello che succede a roma ma anche in tantissime realtà locali dai comuni alle regioni quant'altro le istituzioni locali pare che facciano a gara per dotarsi di ammiraglie auto più o meno grigie bianche e blu e vi dicendo di produzione nazionale o più frequentemente di produzione straniera abbiamo anche presidenti di camere che invece che andare in giro con una macchina diciamo così di media cilindrata utilizza un grande suv con tutto quello che ne comporta anche in termini di costi e di consumo di impatto ambientale sull'aria da questo punto di vista e quando poi chi a utilizzare questo questo mezzo è anche un esponente dei cinque stelle che si preclama paladino l'ambiente beh la misura è anche colma però torniamo a casellati anche se lei ufficialmente non ha dichiarato niente non si è uscita con alcuna giustificazione le voci di corridoio dicono che questo sia dovuto al fatto che la presidente la seconda carica dello stato ha voluto in questa maniera qua tutelarsi dal rischio di covid eh sì bella forza bella bella giustificazione e cosa devono dire allora tutti gli altri 314 senatori che lei presiede di cui lei è un primus interparse per gli altri la prevenzione del covid non vale e poi bisogna anche dire anche un'altra cosa fare la usare l'aero blu per fare venezia roma e dintorni spesso volentieri l'aero ha viaggiato a vuoto ed è un costo che si uscilla intorno ai cinque dei 5.700 euro all'ora di volo cosa non è uno spreco questo non si poteva utilizzare un come fanno anche tantissimi altri deputati senatori un volo di linea non dico neanche in classe low cost ma normale prima classe oppure utilizzare il treno che offre dei servizi molto più comodi puntuali perché ti portano direttamente a casa tua a padova senza dopo dover fare la spola di 30 chilometri tra fare padova e venezia con l'auto blu e il lampeggiante sull'autostrada da questo punto di vista per gli altri appunto la prevenzione covid non serve non è non vale da questo punto di vista è capibile anche tutta la polemica che viene fuori anche perché siamo in un periodo in cui si parla sempre di ridurre al massimo i costi l'impatto ambientale delle varie attività e sappiamo benissimi che anche il trasporto aereo è uno di quelli che impatta maggiormente al giorno oggi soprattutto quando deve portare in giro solamente una persona oltre il pilota e il personale diciamo di bordo che fa da steward e quant'altro ci dispiace sottolinearlo ma anche questa volta il tacone è peggio del buso da questo punto di vista qua e giustificarlo come come una modalità di prevenzione beh è una coperta molto corta e da questo punto di vista oltre all'esposto che ha fatto il codacons o le interrogazioni che hanno fatto anche europa verde e lo stesso cottarelli che è l'ex commissario alla revisione della spesa pubblica nonché anche responsabile dell'osservatorio sulla qualità della spesa pubblica carlo cottarelli affermano senza giri di parole che i voli di stato della presidente casellati se fossero confermati e pare che lo siano da questo punto di vista sarebbero molto ma molto gravi la gente non sopporta l'auto blu figuriamoci una euro blu e da questo punto di vista lasciamo spazio alla nostra matita graffiante del nostro domenico la cava che interpreta a modo suo l'ennesimo così scandalo al sorriso dove vede praticamente la nostra presidente padovana in sella anzi a cavallo di un gesto executive con tanto di sciarpa tricolore che viaggia tra roma sardegna roma venezia e quant'altro cara presidente se lei vuole essere veramente una presidente di essere rispettata da tutti i cittadini impari a dare l'esempio lei stessa a confortarsi come fanno tutti i cittadini cari amici abbiamo visto anche questa puntata vi ricordo di registrarvi il nostro sito e intanto da stefano edena un saluto e arrivederci alla prossima ciao grazie